Il 18 giugno 2019 ha avuto luogo il terzo processo che l'Ordine dei Medici di Milano ha organizzato nei confronti di un alimento. Precedentemente l'Ordine aveva organizzato due processi, uno alla carne e uno al latte. Il processo è in forma di vero e proprio processo con un presidente, presidente dei tribunali, un PM degli avvocati veri e dei testimoni, dei consulenti di parte che sono degli illustri consulenti che faranno la loro parte evidenziando i vantaggi e gli svantaggi dello zucchero e dei carboidrati in genere. Anche in questo caso, come negli altri casi, si tratta di una formula creata per divertire, ma per imparare contemporaneamente. Il processo è aperto a tutta la popolazione, come gli altri, e quindi tutta la popolazione ha potuto accedervi e imparare qualcosa. Sempre in questo senso è stato realizzato un video con il terzo segreto di satira. Si tratta di una falsa inchiesta su una sostanza che viene spacciata molto pericolosa, una sostanza bianca che poi si scopre lo zucchero e che viene un po' presa in giro, sempre per far imparare a tutti alcuni dati importanti, quindi quanto siano importanti i carboidrati per la vita, ma anche quanto possano far male, per esempio, nell'obesità infantile e disciolti nelle bevande zuccherate. L'Ordine dei Medici Milano vuole con questo evento, in sintesi, continuare una strada aperta nel passato, quella di essere al fianco non solo dei propri iscritti, ma soprattutto dei cittadini per divulgare dei messaggi importanti che però devono essere divulgati in maniera gradevole e non troppo pesante. Grazie per la visione!